L'Italia rientrata nella casa della Palavano di Chieti dopo una vittoria convincente in Lettonia, una vittoria che ci serviva, una vittoria in trasferta in campo internazionale non è mai una cosa scontata, dopo soprattutto un ottimo primo tempo tra l'altro con un'Italia che arrivava con tante assenze, con tante novità, quindi anche con qualche incognita. Beh, intanto le assenze io direi di lasciarle da perdere perché noi abbiamo una nazionale che sta giocando, come ho detto le ragazze, per me questa è la nazionale, per noi staff questa è la nazionale e siamo stati molto soddisfatti dell'approccio alla partita. Un buonissimo primo tempo in cui hanno giocato tutte e abbiamo dimostrato che fuori casa, e noi non abbiamo l'armadio pieno di vittorie fuori casa e neanche a livello internazionale, siamo riusciti a imporre il nostro gioco, ad avere personalità, a fare, certamente abbiamo fatto qualche errore, ma abbiamo provato a giocare secondo quelle che sono le nostre indicazioni. E questo c'è molto di conforto anche perché penso che sia dimostrazione che in realtà il movimento italiano femminile è vivo perché produce anche ragazze al di là di quelle che non c'erano in questa situazione. Adesso si gioca la partita in casa, davanti al nostro pubblico, quindi sarà importante ripetere se possibile quello che è successo in Lettonia, confermarsi, prendersi questo terzo posto e onorare il fatto di giocare davanti al nostro pubblico. Questo è quello che abbiamo chiesto dall'inizio alle ragazze, che chiederemo anche dalla riunione che faremo fra un'ora e fino alla preparazione della partita. Noi abbiamo un dovere verso noi stessi di dimostrare di stare migliorando individualmente come gruppo, abbiamo un dovere verso tutto il movimento di far vedere che la Palamaria italiana è viva, certamente deve crescere, è ancora in una fase diciamo adolescenziale, ma sta crescendo e queste ragazze possono dimostrarlo perché queste ragazze secondo me hanno talento. In un girone, lo dicevamo anche a microfoni spenti, molto molto dislivellato al suo interno perché abbiamo visto anche una Francia andare a dominare completamente la partita in Slovenia, quelle saranno le due avversarie con cui chiuderemo il girone, probabilmente, qualora non dovessero esserci sorprese, da terza di questo raggruppamento, comunque con gli scenari aperti poi negli ultimi due giornate. Beh, chiaramente per chi conosce la Palamaria, molti di quelli che ci ascoltano sanno di cosa parliamo, non credo che sia possibile pensare che Francia e Slovenia in questo momento siano alla nostra portata, soprattutto la Francia è un livello straordinariamente forte, proprio a microfoni spenti dicevamo che il nostro obiettivo primario adesso dovrebbe essere raggiungere quella fascia di squadre come la Slovenia, che comunque è vicino alle posizioni di vertice ma non può aspirare a vincere un'Olimpia o di un Mondiale Unione Europeo. E per quanto riguarda il resto, niente, abbiamo questo obiettivo di essere terzi, lo abbiamo subito dichiarato dopo il sorteggio, e cercare comunque di avere ogni giorno un miglioramento, ogni allenamento un miglioramento, ogni partito un miglioramento, chiaro che dobbiamo vincere, prima di tutto con la Lettonia, perché la partita è ancora da giocare, dobbiamo dimostrare che quello che abbiamo fatto nel primo tempo, e secondo me anche in buona parte del secondo tempo, per almeno per 15 minuti, è un buon segnale, e dobbiamo farlo convincendo il pubblico a seguirci, a applaudirci, a voderci bene. E poi lo dicevi, sono 120 minuti, è uno stato, uno stage, in generale, un periodo di lavoro insieme, che ha permesso di ulteriormente allargare il bacino di giocatrici che fanno parte di questo organico, non soltanto di vederle in raduno, ma di vederle poi anche in campo internazionale. Dicevamo con Elena Barani ieri che abbiamo dato una grande possibilità a queste ragazze di farsi vedere, di farsi conoscere, e di vedere come si può stare in un nazionale. Adesso sono loro che devono investire su se stesse, cercare di migliorare nei club, club che stanno facendo comunque un buon lavoro, perché se arrivano in nazionale vuol dire che qualcuno da qualche parte lavora, e anche questo piangerci addosso deve finire, dobbiamo lavorare e continuare a lavorare bene.